Ciao amici, come state? Spero tutto bene. Oggi ritorniamo nella serie di Ice Cream, ma oggi siamo qua per un video dedicato alla festa delle madri. Ebbene sì, oggi è la festa della madre e all'interno di questo gioco c'è una madre che vuole rincontrare suo figlio, Sister Madeline. Quindi cerchiamo un po' di scoprire insieme cosa potrebbe accadere, ma prima di partire lasciate un commento tantissimi like, iscrivete al canale con la campanella attiva e ci tenevo a ringraziare Bredetto Dieghi per aver fatto la donazione al canale. Ti ringrazio per il grande supporto, ma adesso devi partire. Cominciamo, andiamo subito qua in partita e come zona scegliamo in realtà una vale l'altra, quindi potremmo pure mettere la casetta di Joseph. Almeno così ci ritroviamo la suoretta all'interno del gioco, visto che Sister Madeline è la madre di Rod, vuole rivedere suo figlio. E quindi divertiamoci un po' qua con la nostra cara suoretta, apri qui la porticina e usciamo subito fuori. Suoretta cara, buonasera, dove sei? Allora non è di qua, ma con quale modalità sto giocando? Sto giocando in fantasma, ma no, io volevo giocare almeno in facile, normale, giusto per divertirci un po' con la suora che era l'immobilizzata, non faceva niente. Stava l'impalata, ma suoretta cara, ma auguri per la festa della madre, finalmente potrai incontrare tuo figlio, finalmente Sister Madeline si rivedrà con Rod. Ma cosa potrebbe accadere? Quali sono già le informazioni che noi conosciamo già? In realtà se ci pensiamo noi sappiamo già qualcosa. Innanzitutto, vabbè, sappiamo che la suora è la madre di Rod, Rod è nato con tutto quanto il rituale di Nazareth, eccetera, eccetera, non sto qua a ripetere tutta quanto la storia perché ormai lo sappiamo a memoria. Ma quello che è successo è che poi qualcuno ha portato via Rod da Sister Madeline e sappiamo bene chi è stato. Sono state tutte quante le altre suore dell'Igore School, insieme a William, si sono messi d'accordo insieme a Joseph Sullivan. Joseph Sullivan si è portato via Rod all'età di quattro anni all'insaputa di Sister Madeline, cioè lei l'ha scoperto soltanto quando ha visto suo figlio entrare dentro la macchina di Joseph che se ne stava andando via. E lei però non poteva uscire dalla scuola per rincorrere Joseph, non poteva farlo perché se lei usciva fuori Rod sarebbe morto, quindi doveva stare per forza dentro la scuola e non poteva fare nient'altro, cioè stava lì dalla finestra a guardare. Cioè in effetti io mi metto nei suoi panni, non è che è tecnicamente una cosa bella da vivere, non credo proprio. Tutto quanto è stato portato via ma ad un costo, ad un prezzo. Joseph Sullivan in realtà lui non voleva Rod, cioè non è che voleva diventare il padre di Rod di sua spontanea volontà, semplicemente gli hanno fatto un accordo, una proposta, gli hanno detto tu ti prendi Rod e noi in cambio ti diamo qualcosa. Cioè praticamente per Joseph Sullivan il fatto di portarsi via Rod è stato come fare un favore, quindi sì io ti faccio questo favore ma in cambio tu cosa mi dai? E tutti quanti gli altri, tipo le storie della Gold School e anche William, hanno dato a Giuseppino il quaderno segreto degli appunti e per questo motivo che infatti Joseph Sullivan si è ritrovato a fare tutte quante queste cose improvvisamente da gelataio normale che vendeva gelati così nei quartieri, si è ritrovato ad essere uno dei migliori gelatai di tutto quanto il mondo. Cioè guardate qua che fabbrica enorme che si è creato, e sì, quelle formule segrete che si stermata e non si fa facendo hanno aiutato Joseph Sullivan a diventare un gelataio, ma ricordiamoci un po' come sono queste formule. Allora per prima cosa direi di salire, no non devo andare di qua, vabbè andiamo allora verso il museo, tanto comunque una zona vale l'altra. Andiamo di qua velocemente, corri personaggio, poi in realtà volevo pure scegliere l'altra zona per vedermi con Rod, mi spiega il figlio della sua retta. Vabbè andiamo di qua va, entriamo qua dentro, qual è il mio obiettivo? Ah vero a casetta di Joseph, ecco perché non potevo andare da nessuna parte, perché effettivamente sono già nella zona che mi serve. Comunque cos'è che volevo dire? Joseph Sullivan ha chiesto quel quaderno segreto non perché voleva fare un rituale, cioè lui non interessava evocare un Nasrat per esaurire un desiderio. Lui sapeva che la sua retta aveva creato questa formula segreta che riusciva a trasformare tutte quante, ad esempio, i cibi in robe deliziose. L'abbiamo visto pure sui Von Nand, Broke & Musk. La sua retta aveva fatto questo quaderno segreto, questi appunti che riusciva a rendere delizioso qualunque cosa. Ecco Joseph Sullivan l'ha preso per utilizzarlo sui suoi gelati. Per questo motivo i suoi gelati sono così buoni, è solo che adesso c'è un problema. Ora, io non vorrei dire, ma caro Rod, se tu hai già preso tutte quante queste cose, i chubby boy, no, la pozione segreta, cioè perché tutto quanto? Cioè se lui ha la pozione, Rod, perché ha bisogno dei chubby boy? Cioè si è vendicato di tutti quanti i suoi amici, no, i suoi vecchi compagni di classe, ma perché ha proseguito? E questo è il problema, cioè noi non sappiamo perché lui ha voluto continuare con una vendetta verso chi? Cioè lui si è già vendicato, ma non ci sono più i suoi vecchi compagni che lo prendevano in giro, sono esplosi. Perché comunque è vero che questa pozione segreta rende buono qualunque cosa, ma in contemporanea, ricordiamoci una cosa, che deve essere ben dosata. Se noi mettiamo una dose proprio normale, i gelati sono buoni. Se mettiamo una dose intera, i gelati fanno diventare i bambini in chubby boy. Ma se esageriamo con le dosi, da chubby boy proprio esplodono direttamente. E Joseph Sullivan, anzi Rod, ha usato appunto questa pozione qua per far esplodere i suoi vecchi compagni di classe. Come è successo ad esempio a Daniel J, stessa cosa. Adesso mettiamo qua il noclip, vediamo se qui sotto c'è qualche parte di mappa. No, non c'è nient'altro. Ve lo far vedere pure l'altra parte. Allora direi di fare una cosa, va direi proprio di uscire qua, togliamo sto noclip che tanto non ci serve. Andiamo qua, esci dal gioco, stavolta però come zona scegliamo il laboratorio. Così almeno incontriamo pure Rod, no? Visto che, insomma, abbiamo visto la madre, adesso vediamo il figlio. Ok, tocchiamo continuo, andiamo qua in partita e come zona scegliamo il laboratorio. Ce ne andiamo direttamente lì, così. Abbiamo fatto gli auguri a sua retta, Sister Madalyn. Auguri ancora, Sister Madalyn, è stato un piacere. E dai, spero che quando ti vedrai con Rod tutto quanto andrà bene. E invece, adesso proviamo un po' a scoprire cosa succederà, perché abbiamo fatto un po' di premesse. Effettivamente, ancora ne abbiamo parlato. Di cosa accadrà quando Sister Madalyn si vedrà con Rod. Allora, ci sono due fronti. Il fronte Sister Madalyn e il fronte Rod. Quello di Sister Madalyn è appunto quello di essere felice di rivedersi con Rod. Perché la sua retta non vede l'ora di riabbracciare suo figlio. Cioè, ha sentito la sua mancanza. Sa che comunque dentro suo figlio ci sta l'anima di Elisa. Quindi l'è comunque attaccata a sua figlia Elisa. Quindi, tecnicamente, quando si avvicina con Rod, si avvicina pure all'anima di Elisa. Ma dall'altra parte abbiamo un Rod che non è contento di rivedere sua madre. Perché comunque, a quanto pare, sa che... Sister Madalyn non è una persona buona, no? Cioè, tutto quello che è successo in poche parole. Però non sappiamo se Rod sa di avere l'anima di Elisa all'interno del corpo. Se comunque questa cosa, quest'anima, si dovesse sbloccare, Sister Madalyn ed Elisa potranno ricongiungersi. Ma bisogna vedere poi che cosa succede anche a Rod. Vabbè, c'è da dire che comunque Rod è la reincarnazione di Elisa. Ma non sappiamo se dentro Rod ci sta anche un'altra anima. Magari nel frattempo, essendo che l'anima di Elisa è rimasta sempre lì dormiente all'interno del corpo, può darsi che si sia formato un'altra personalità di Rod. E qui di dentro proprio il corpo di Rod abbiamo un Rod, quello che noi conosciamo, quello in cattivito verso tutte. E poi dall'altra parte ci sta la personalità di Elisa, proprio l'anima di Elisa che sta lì dentro, ma che non è attiva. Ecco, una sorta di anima dormiente, chiamiamola così, va? Spero che si sia capito il concetto. Quindi, quando Rod e Sister Madalyn si incontreranno, non escludo che comunque l'anima di Elisa possa attivarsi. E in questo caso Rod potrebbe acquisire i ricordi di Elisa. Potrebbe ricordarsi chi era lui nella sua vita precedente. E lì, chi lo sa come potrà proseguire? Anche perché Rod comunque... Cioè, lui sa che quando abitava nell'agor school la madre la chiamava Elisa. E la vestiva anche con quei vestiti da Elisa. Però, boh, rimane sempre questo dubbio qua, questo mistero. Secondo me sarebbe pure più interessante approfondirlo più avanti con un altro video, perché questo argomento è veramente molto complesso e anche molto interessante. Quindi, caro Roddino, che piacere rivederti. Non vedo l'ora di rivederti nel prossimo aggiornamento. E niente, io direi di fare una cosa. Direi che per il momento posso venire qua il video. Fatemi sapere qui sotto i commenti cosa ne pensate. Ma soprattutto, fatemi sapere qui sotto i commenti le vostre teorie. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi racconto. Spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Non ci vediamo per i prossimi video. Come sempre vi auguro buona giornata, buona giornata, buona giornata. Ciao a tutti e buon panino a tutti.